Una donna in evidente difficoltà si denuda e mostra le parti intime, gli automobilisti in transito e i passanti. E' accaduto ieri mattina nei pressi della mensa dei poveri in via Morelli e Silbati. La vicenda ci è stata segnalata da alcuni cittadini che dopo aver assistito alla scena hanno alertato i soccorsi. La donna di circa 40 anni, probabilmente a straniera, dopo aver inveito appunto i presenti, si è allontanata. E' questo solo uno dei tanti casi di disagio mentale che quotidianamente si registrano anche in città. Così come il calvario di una madre, incrociata anche stamani, lacrime nei pressi della chiesa del Rosario che ci ha chiesto aiuto. Si tratta di una sessantenne che a volte urla il suo dolore e la sua solitudine per le strade del centro. Anche lei forse è finita nel tunnel della demenza. La figlia, affetta da disturbi mentali, è diventata un pericolo tra le quattro mura di casa. Quando va in crisi diventa violenta, rivela fino a picchiarla. E secondo quanto denunciato, anche i carabinieri arriverebbe a colpirla anche con oggetti contundenti. Un altro SOS, abbiamo raccolto a telefono, sempre da una madre disperata che ha chiesto ascolto, segnalandoci il dramma del figlio tossicodipendente affetto da problemi psichiatrici. Anche in questo caso il giovane fuori controllo diventa una minaccia per i familiari che cercano comunque di stargli vicino. Sono solo tre delle tante storie difficili che alleggiano come mine vaganti in un limbo istituzionale, genitori stremati che ci confessano quanto sia dura denunciare le forze dell'ordine a un figlio per cercare di salvarlo dall'oblio ed evitare comunque l'incubo della tragedia familiare. La nostra è una delle province più listate a lutto per i suicidi in Italia. Più volte sono state allertate le forze dell'ordine e operatori sanitari sul filo del baratro, ma il rifiuto di ricoverarsi assicura alle persone con disagio di restare comunque nel proprio domicilio. Nonostante si tratti di vicende particolarmente delicate e complesse, più volte denunciate alle autorità competenti, Nessuno interviene, sottolineano le vittime dei tanti viaggi nel buio senza ritorno. Sarebbe fosse opportuno, considerando l'emergenza un maggiore dialogo tra astra, psichiatria e servizi sociali, suggerisce il direttore della Caritas di Avellino Carlo Mele. Un tavolo di concertazione da istituire anche con urgenza in prefettura per ipotizzare un percorso condiviso tra competenze cliniche e sociali a sostegno dei nuovi invisibili e delle loro famiglie, sempre più lontano dai radar e sempre più sole.